Stavamo disputando la gente sul campionato, quindi sicuramente anche da parte del Napoli c'era meno voglia di cerchi. E poi devo dire che comunque non è stata proprio una vera trattativa, non c'è stata una richiesta importante come è stato quest'anno. Perché appunto ringrazio i direttori che ha avviato questa trattativa e concluso in una maniera più breve possibile, perché in un'altra volta dopo si è sticlato il contratto perché comunque c'era la volontà alle due parti di chiudere. E Napoli sicuramente ha aggevolato anche la trattativa. Il tuo stato d'animo sembrava che pareva una ironica fosse due entità che non si dovessero incontrare mai, forse hai vissuto anche con un po' di voi. Adesso qual è il tuo stato d'animo? Adesso sono molto felice, sono veramente soddisfatto perché a prescindere da non due difficoltà che sta attraversando la squadra, ma diciamo che il cuore non fa paura perché chi viene a Palermo e in questo caso è sottoscritto, che vede nel progetto, che vede nella voglia di far bene da parte della società e da parte anche della squadra. Io da pochi giorni mi sto allenando ma vedo che c'è tanta voglia di far bene. Per un palermitano, per un siciliano che torna a giocare nella buona squadra sicuramente per me era, non dico l'ultimo tassello, ma era una cosa che ho sempre desiderato e che ho sempre ambito.